La città ha espresso fortemente negli ultimi anni è stata sottolineata più volte in diversi interventi del sindaco di Savona e del presidente dell'autority. Il sostegno al mondo dello sport, le sinergie con importanti realtà produttive per la diffusione dell'informatica tra gli studenti, la collaborazione con gli enti locali ed ora l'iniziativa Pala Carisa testimoniano lo stretto legame della banca con il territorio e il suo ruolo fondamentale nell'economia savonese. Qui dietro c'è il manifesto di una regata che partirà da Savona il primo maggio. Noi pensiamo, riteniamo, ci adopriamo a che sia Savona che parta. L'iniziativa del Pala Carisa vuole essere questo. Anche la regata che abbiamo sponsorizzato insieme ad altri si inserisce in questo momento.